Con la nostra mente ci richiamo a Pietrelcina e vediamo come piccolo Francesco, il futuro Padre Pio, gusta le gioie del Santo Natale e ci dobbiamo immettere nella tradizione del paese, quando di buon mattino, prima che ci fosse lo spuntare del giorno, suonavano le campane a festa per richiamare anche i contadini delle varie contrade, i quali si rivestivano di indumenti per ripararsi dal freddo e si recavano in chiesa per la veglia dell'impreparazione al Santo Natale. Una cerimonia molto importante perché a quell'ora e non un po' più tardi, perché i contadini dovevano andare a lavorare, allora prima che si facesse il giorno la messa in preparazione al Santo Natale. E durante il giorno c'erano i zampognari che giravano per le strade del paese, circondate dalla frotta dei bambini perché sentivano quelle belle ninna-nan, quelle belle sonate delle zampogne. E questi zampognari che poi si recavano a cimitero per suonare il tuscente dalle stelle sulle tombe dei defunti. E magari a fianco a quelle tombe c'erano i parenti che avevano invitati i suonatori e davano l'offerta e con le lacrime agli occhi facevano un'affermazione formidabile. Questi nostri defunti che sono sotto la terra non è che non ascoltano. Il loro corpo è senza vita, ma loro sono in cielo e gustano anche essi il tuscente dalle stelle. E le cerimonie della sera in chiesa della partecipazione di tutti i fedeli e dei canti belli natalizi in preparazione al giorno del Natale. Nella vita di Padre Pio Sacerdote vi sono le tradizioni del convento cappuccino ed è bello ricordare che la sera della vigilia del Natale i frati si riunivano al refettorio dopo la cena, si giocava a tombola, chi giocava a dama e Padre Pio stava insieme ai confratelli a ridere, a scherzare e magari a punzecchiare qualche frate. E la preghiera, anche quello stare insieme per Padre Pio era preghiera, era gioia fraterna. E poi si andava a letto in attesa di un altro canto. Ecco, i fratini dietro le porte dei frati bussavano verso le 11.30, bussavano e gridavano è nato Gesù bambino e cantavano Tuscenti dalle stelle. La stessa cerimonia dietro la porta di Padre Pio e Padre Pio apriva la porta e abbracciava tutti e dava delle caramelle, dei cioccolatini ai fratini, ma ancora di più dava un ricordo straordinario, faceva baciare le mani a tutti i fratini, quelle mani piagate dalle stimmate. Un cammino, diciamo, molto bello, diremmo poetico, anche di fronte alla riflessione dura che fa il vancelo. Che quanto Giuseppe bussava alle porte delle case per avere un posto per la propria moglie, non c'era il posto e le porte rimanevano chiuse. Gesù dirà nella vita bussavano e vi sarà aperto. Per lui le porte rimassero chiuse. Ci furono soltanto delle persone che aprirono non tanto le porte, ma aprirono i loro cuori, i pastori, perché ascoltarono la voce degli angeli e corsero e trovarono una donna col bambino tra le braccia e trovarono Giuseppe, il papà, e pensarono subito, ma questi non hanno mangiato e dalla loro bisaccia prendono il tozzo di pane e un po' di formaggio e lo danno a Giuseppe e a Maria. È il donna dei poveri, a Gesù, che era venuto ad arricchirci della sua gioia, della sua serenità, della sua divinità.